Buon pomeriggio lunedì 15 ottobre e ben ritrovati con InfoStudio. Ci sarà gran lavoro domani per il Tribunale della Libertà che dovrà valutare i ricorsi sia della procura di Locri che degli avvocati di Mimmo Lucano dopo l'operazione del 2 ottobre scorso che ha portato all'arresto e detenuto ai domiciliari del sindaco di Riace per irregolarità nella gestione del centro di accoglienza a Lucano per essere più precisi, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di aver affidato illecitamente il servizio di raccolta rifiuti nel suo comune. Il Tribunale del Riesame dovrà valutare i ricorsi degli avvocati di Lucano, d'Acqua e Mazzone, che chiedono che Lucano venga rimesso in libertà. Vi ricordo che il giudice per le indagini preliminari lo aveva ristretto valutando che da sindaco in carica potesse reiterare, ripetere i reati, ma non gli ha imposto pur essendo Lucano agli arresti domiciliari particolari limitazioni. Mentre la Procura chiede di riconsiderare le contestazioni, Mossa Lucano erano ben nove i capi d'accusa della Procura di Locri, due dei quali, come abbiamo detto, illecito affidamento dell'appalto per il servizio rifiuti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono stati accolti, ma ben più gravi erano poi le accuse, tant'è che erano contestate l'associazione a delinquere, la concussione, la truffa aggravata, l'abuso e la malversazione. La Procura ha chiesto anche di rivalutare la posizione di altre 14 persone che erano indagate e per le quali non ha ritenuto il GIP di dover prendere provvedimenti. Intanto a Riace l'attesa è grande, ieri e oggi calma solo apparente che precede questa giornata estremamente importante per gli sviluppi dell'inchiesta, mentre naturalmente adesso si guarda anche al futuro dei migranti che hanno vissuto per anni nel piccolo comune della fascia ionica del Regino. Sentirete fra l'altro il loro smarrimento, nelle dichiarazioni, nelle loro parole si coglierà questo smarrimento e chi è vicino a Lucano in questo momento non può non considerare come i tempi siano stati assolutamente particolari, diciamo così, proprio mentre nell'opinione pubblica nel nostro Paese c'è un sentimento estremamente avverso al fenomeno migratorio. A Riace non ci sarà alcun trasferimento obbligatorio. I migranti si muoveranno solo su base volontaria e quelli che decideranno di restare potranno farlo, uscendo però dal circuito dell'accoglienza. È il meccanismo che scatta quando un progetto Sprar chiude, come ha sottolineato ieri sera una nota del Viminale, che ha meglio specificato la circolare del Ministero dell'Interno, che in parte ha placato le polemiche sullo smantellamento del modello Riace. Tuttavia non si può non considerare quello che riguarda il sindaco, Mimmo Lucano, un caso politico. Solo per restare alle ultime ore, la leader della CGL, Susanna Camusso, ha puntato il dito contro Salvini per quello che ha definito un atto disumano di dubbia legalità. La presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani, Carla Nespolo, ha chiesto al Movimento 5 Stelle di non voltarsi dall'altra parte e fermare Salvini. Nicola Zingaretti, candidato alla guida del PD, ha definito quello del Ministero dell'Interno un atto immondo. E Laura Boldrini e Nicola Fratoianni, di Liberi Uguali, hanno ricordato i guai legali della Lega e bollato come poco credibile il fatto che chi parla di gestione irregolare di fondi pubblici sia chi deve restituire 49 milioni di euro. Domani è attesa la decisione del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria sulla richiesta di rimessione in libertà del sindaco, che rivendica il lavoro fatto, ma non nasconde che il sentimento in lui prevalente in questo momento sia l'amarezza. Le persone non sono merce che vengono trasferite così dalla sera alla mattina o non è giusto perché ci sono i bambini che vanno a scuola, che hanno i loro amici nel paese. Credo che questo è molto amareggiante. Sono molto amareggiato perché è come distruggere una comunità. Riagia non è un progetto SPRAR normale perché nel corso degli anni si sono create delle dinamiche così di apertura che hanno portato alla costruzione veramente di una piccola comunità globale. In un territorio come la Locride dove non è certamente facile per le possibilità di integrazione perché soprattutto non ci sono tante opportunità di lavoro e perché è una terra da cui bisogna conoscere, essere dentro per capire com'è difficile veramente costruire delle opportunità, delle prospettive che possono guardare al futuro anche per i giovani del luogo. Ieri Salvini ha ricordato che l'indagine su Riace era stata avviata quando al Viminale c'era Marco Minniti, suo predecessore ed ora candidato come segretario del PD, cioè lo stesso partito di Lucano. Ma chi è vicino al sindaco non crede che sia casuale che l'inchiesta sia giunta al dunque, proprio mentre è palesemente montata l'avversione nei confronti del fenomeno migratorio. C'è un vento politico adesso diverso a livello nazionale, quindi le cose stanno un po' cambiando, gli SPRAR finiranno, c'è una politica che non tende più a valutare l'accoglienza così come è previsto dalla Costituzione. Basta applicare la Costituzione e ci si rende conto che è fondamentale questo, si accoglie chi fugge dalle guerre e dalle persecuzioni. Anche se si guarda la tempistica dei provvedimenti, anche se dire il vero lo SPRAR, il progetto SPRAR di Riace, i fondi erano già stati bloccati prima, da circa un anno e mezzo. Tra le accuse mosse al modello Riace, la presenza di non aventi diritto, l'uso improprio dei pocket money e la precarietà delle condizioni igieniche di alcune case. Nel paese sono 80 gli stranieri a carico dello SPRAR, mentre altre decine afferiscono al centro di accoglienza straordinaria. Per loro sono ore in cui incertezza e pessimismo si mischiano a sconforto e disappunto. Adesso sono due supermercati, prendono i bonus, mangi. Adesso Rosato e Sandaco non prendono i bonus più. Adesso tutti i riace migranti morire, perché? Perché così? Diteria, perché? Io piace il riace qua. Io sono nato a Lampadusa, vengo a Riace qua. Io piace il riace qua. Adesso io andato via. Dove io vai? Dove adesso io vai? Stamattina parlando a Napoli del sistema di accoglienza nel suo complesso e dei centri SPRAR, il presidente della Camera Roberto Fico ha detto che non c'è solo riace nel paese. Gli esempi di integrazione, di cooperazione, di diffusione sono in tutta Italia. Io li ho invitati il 3 ottobre alla Camera dei Deputati e riace in questo momento una situazione più complessa e ne parlerò tra qualche giorno, ha sottolineato Fico. Il vescovo, l'arcivescovo di Campobasso e Boiano, Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, che ha vissuto per molto tempo in Calabria, prima da sacerdote a Crotone per molti anni e poi da vescovo appena ordinato nella diocesi di Locri Gerace, ha detto di essere lieto del passo indietro, così l'ha definito. Poi in realtà nel servizio abbiamo sentito che si tratta del meccanismo che si attiva ogni volta che si chiude uno SPRAR, altrimenti, sottolinea Monsignor Bregantini, diventava una deportazione forzata. Così è un cammino condiviso ed è tanto più forte quanto sia da rispettare, anche se da riformare, il modello riaceo che resta comunque in piedi. La forza di questo modello, dice Monsignor Bregantini, sta nel fatto che questa esperienza nasce condivisa, aiutare i migranti perché loro aiutano anche noi. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Calabria, Antonio Marziale, ha detto che il diritto all'accoglienza, alla cittadinanza e all'integrazione è riconosciuto ai bambini in tutto il mondo, specialmente quando essi fuggono da paesi in difficoltà e preda di carestie, fame e guerre. Ha sottolineato che questo è contemplato, fra l'altro, nella dichiarazione universale dell'ONU sui diritti del fanciullo. Per questo, pur non entrando nel merito dell'inchiesta, ha aggiunto Marziale, ci diciamo fortemente preoccupati ed in totale disaccordo col provvedimento del Ministero dell'Interno che di fatto sposta i minorenni di Riace in altra località. Ed oggi, fra l'altro, a Crotone 69 migranti, quasi tutti iracheni e pakistani, sono sbarcati nella notte da un veriero in località Gabella, stiamo parlando di una spiaggia a nord del capoluogo. Il natante, sul quale hanno viaggiato, è una barca a vela che si era nata davanti alle coste della località, mentre nella zona imperversava un temporale, come un po' dappertutto sullo Ionio calabrese la scorsa notte. A lanciare l'allarme è stato un residente, subito si è attivato il meccanismo di soccorso che entra in funzione in questi casi. I migranti comunque sono in discrete condizioni di salute, adesso si trovano tutti nel centro di accoglienza per richiedenti asilo di Isola Caporizzuto. Parlavamo del maltempo, ne riparliamo perché per fortuna l'entità delle piogge di ieri sera, della scorsa notte, in alcuni casi di questa mattina, è stata molto inferiore a quella che il 4 e il 5 ottobre scorsi ha flagellato la nostra regione e causato, purtroppo lo sappiamo, la morte di tre persone, ma i danni ci sono stati, ci sono, purtroppo anche stavolta, perché l'esondazione del torrente Tuccio in località Muso Puniti di Merito Portosalvo ha danneggiato la condotta regionale acquedottistica, la Sorical ha già inviato sul posto squadre di manutentori per avviare i lavori di ripristino, comunque ci vorranno non meno di 48 ore e purtroppo ci sono molti comuni, oltre a Merito Portosalvo, che sono interessati da questo disservizio, stiamo parlando di Montebello Ionico, Rogudi, San Lorenzo, Motta San Giovanni, anche la zona sud di Reggio Calabria è in questo momento alle prese con l'ammanco dell'acqua per via di questa rottura. Veniamo alla cronaca, 15 persone sono tutte di origini calabresi, sono state arrestate per estorsione e spaccio di droga nel Varesotto dai carabinieri di Busto Arsizio, si tratta di persone che avevano base allonate Pozzolo, sempre in provincia di Varese, sono ritenute vicine alla cosca Gallico di Palmi. dall'indagine denominata Atlantic, condotta dalla procura di Varese, è emerso che parte dei profitti di spaccio ed estorsioni veniva reinvestito in attività commerciali, per esempio sono stati sequestrati un bar ed un parcheggio adiacente all'aeroporto milanese di Malpensa. L'indagine era iniziata dopo il tentato suicidio di una delle vittime di estorsione e di debiti di droga. Per tentata estorsione invece a Palmi la polizia ha arrestato Rocco Papasergio di 41 anni e Francesco Romeo di 37 con l'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata. Secondo la DDA di Reggio Calabria, Papasergio e Romeo si sarebbero resi responsabili in tempi diversi e con più azioni di una tentata estorsione ai danni di un'impresa impegnata in un lavoro pubblico. avevano anche minacciato di incendiare i mezzi della ditta nel caso in cui la richiesta estorsiva non fosse stata soddisfatta. Nella sanità privata si è tornati a capo perché dopo aver esultato, sarebbe il caso di aggiungere troppo presto, ma sembrava un provvedimento anche e soprattutto per le motivazioni che lo sostenevano, per le parole usate dai giudici amministrativi definitivo, quello del Tar della Calabria che di appena due settimane e mezzo fa, del 26 settembre scorso, il commissario alla sanità scura ha riproposto nella stessa maniera, con la stessa cifra e le stesse modalità, le risorse che riguardano gli ambulatori e i laboratori privati che verrebbero penalizzati come si riteneva fosse e come si stessi ritenevano che fosse, tant'è che avevano presentato ricorso alla giustizia amministrativa, nei precedenti decreti che erano stati emanati a marzo. Sullo sfondo c'è questo tentativo di incrementare la produttività della sanità pubblica che però era andata a vuoto nei sei mesi successivi ai primi due decreti, non si capisce come possa migliorare nel tempo a venire e sempre sullo sfondo c'è una vera e propria guerra di potere per quanto riguarda la guida della sanità calabrese e le risorse che essa muove. Tutto si può dire del commissario responsabile del piano di rientro della disastratissima sanità calabrese, Massimo Scura, ma non che sia una persona a cui difettano imperturbabilità, pazienza, freddezza, sfrontatezza. 19 giorni fa il TAR aveva annullato i decreti 72 ed 87 del commissario, ovvero i provvedimenti con i quali venivano fissati i budget per i laboratori di analisi e gli ambulatori privati. 23 milioni di euro che secondo ANISAP e FEDERLAB, le due principali associazioni degli ambulatori privati che avevano presentato ricorso, erano stati spostati dalle strutture di specialistica ambulatoriale alle cliniche private accreditate. Insomma, si era favorita una parte della sanità privata, le cliniche, e se ne era sfavorita un'altra, gli ambulatori. Ovviamente la decisione del Tribunale amministrativo era stata accolta con giubilo dai proprietari di laboratori ed ambulatori, suscitando anche la preoccupazione della Regione Calabria per eventuali danni causati dalla controversia. Mascura è appunto un campione di imperturbabilità, pazienza, eccetera, ed ha riproposto pari pari le stesse cifre nel decreto, stavolta il numero 172, pubblicato il 10 ottobre scorso, che assegna le risorse. Ebbene, ammonta poco meno di 61 milioni di euro il tetto massimo per il 2018 per l'acquisto da parte delle strutture private accreditate delle prestazioni ambulatoriali di assistenza specialistica. Non ci sono variazioni e si fa sempre obbligo ai direttori generali ed ai commissari delle aziende sanitarie pubbliche di incrementare di almeno il 20% le prestazioni di assistenza specialistica e di restare entro i limiti dei singoli piani di rientro aziendali, sottolineando che l'equilibrio dei conti salta proprio perché sono ancora troppe le prestazioni erogate dalla sanità privata. Anzi, per i manager della sanità calabrese scade proprio oggi il termine perentorio entro il quale devono siglare gli accordi con le strutture private con cui hanno rapporti, pena la comunicazione alla Corte dei Conti degli eventuali inadempienti. L'unica riserva nel nuovo decreto riguarda l'eventuale appello al Consiglio di Stato, ma per il resto è come se nulla fosse accaduto. Eppure la sentenza del Tar era stata molto severa con Scura, giudicato colpevole di eccesso di potere, e le sue decisioni erano state tacciate di irragionevolezza e carenza di motivazioni. Per i giudici amministrativi non era dimostrabile, ed anzi era altamente improbabile, che la riduzione delle risorse ai privati avrebbe prodotto un incremento della capacità produttiva pubblica, mantenendo inalterati i livelli essenziali di assistenza. Ed in effetti da marzo, cioè dalla firma dei primi due decreti in poi, la produttività della sanità pubblica non era migliorata. Eppure, ora Scura torna a riproporre un altro provvedimento con la stessa impostazione e le stesse cifre. Forte, probabilmente, della sicurezza di una prospettiva non brevissima, perché dopo la fine del governo di centrosinistra, che lo aveva issato a capo della sanità calabrese, ne è subentrato un altro, quello giallo-verde, che ha investito della questione il Movimento 5 Stelle, che negli ultimi quattro anni ha combattuto una guerra senza quartiere alla giunta regionale guidata da Oliverio, il quale dal canto suo ha fatto carte false per essere nominato commissario, al pari del collega della Campania. Dunque, la sella di Scura sembra salda, il suo potere pure. Una ultima breve di cronaca prima di chiudere. Sono tre le persone denunciate dai carabinieri a Petiria e a Poricastro per aver costruito un tetto abusivo, quindi per abusivismo edilizio. Si tratta del committente dei lavori e degli esecutori delle opere. Il fatto è stato accertato nella frazione Pagliarella. I militari, infatti, hanno constatato che il tetto era stato costruito senza le autorizzazioni previste dalla legge. Vi ricordo sul nostro sito allnews, tgcal24.it, in questo momento in primo piano, sia la carenza idrica nel Reggino. Abbiamo detto diversi comuni della condotta idrica, che sono serviti dalla condotta idrica di merito Portosalvo, ne stanno risentendo. Anche la parte sud, la zona di Pellaro, in particolare di Reggio Calabria, a causa dell'esondazione del torrente Tuccio. E poi la visita del Presidente della Repubblica, approfondiremo anche questa notizia nell'edizione delle 19.40, che sarà a San Demetrio Corone il 7 novembre prossimo, quindi tra poco meno di un mese. E per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle 19.40, vi lascio in compagnia del Viaggio in Calabria di Francesca Rettondini. A più tardi. Rettondini.